Il treno locale per Castelferraris è pronto al binario 1. Il treno diretto proveniente da Cremona per Torre è in partenza dal binario 2. Il treno locale per Castelferraris è pronto al binario 2. Il treno 4217 di Trenoplastici d'Italia proveniente da San Satiro e diretto a Sarvedo è in arrivo al binario 3. Il treno straordinario 34217 di Trenoplastici d'Italia è in partenza dal binario 3. Effetto a servizio di sola prima classe. Sono ammessi soli i viaggiatori con biglietto speciale. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.